OLE! Il resto Tirole! Al dietro! Come sono, ragazzi? Il carico è pronto. Ma ci vuole che lo rilevi. Occorrono fuori amici. Ma purtroppo siamo soltanto io. E lui. Ah, 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 ah. I camion sono guardi. Avevi promesso che li portavi. Non è stato possibile. Do you want to drink? No, non bevo. What's your name? Domenico. Allora, Dominic, dove sta l'ingaggio? L'ingaggio è molto alto pagato stasera. Diecimila domenica. Cinque anni Anconau. La rimanenza ha la consegna del carico. Dove si va? Dove si va? Segrio! Molto grande segrio militare. Noi andremo, voi ci seguirete. E se qualcosa succede, noi non ci conosciamo. Ci conosciamo noi. Ma non accade nada. Ah, nada, nada. Noi diamo American Passport. Ah, della grande massa repubblica di tutto il mondo civile. Ho altri due amici che vengono se sanno dove si va. I perciotti vogliono sapere dove si va. Quando si torna? E cosa si trasporta? Curio, Sony. E non vogliono sapere, par cazzo, se diecimila dollari sono pochi. Cinco ante e cinco apre? Eh? Li vuoi mille dollari di anticipo? No. No. Quanto dura il viaggio? Che domanda e smuili! Quanto dura il viaggio? Tu lo dovrai dire a noi. Noi vi seguiamo, voi fate l'andamento. E porterete mattoni forati con buccio molto pesanti. E in tre giorni si arriva. Ci penseremo. Allora, ti gustano esti mille dollari? Ti ho già detto di no. Ho detto di no. E pazienza. Noi siamo a San Hotel Savoia fino a domani. Portatelos amigos. D'accordo? Ci penseremo. Devo pensare troppo, amico. La vita è una cosa fottuta. Comunque vada, non se ne esce vivi. Asta una lista!